ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora oggi abbiamo avuto la conferma e toninelli del movimento 5 stelle ha pubblicato questo video ufficiale nella sua pagina andiamolo a vedere insieme ho una bella notizia da darvi è appena stato approvato al senato il decreto mille proroghe contiene tanti provvedimenti importanti tra cui uno di cui vado e tutto il movimento va particolarmente orgoglioso eccolo qua articolo 33 del decreto mille proroghe monopattini elettrici ebbene sì è partita ufficialmente la rivoluzione della micromobilità del monopattino della circolazione nelle città in un modo completamente diverso da prima di cosa stiamo parlando stiamo dicendo che il monopattino oggi lo si può utilizzare in tutto il territorio nazionale in tutto il territorio nazionale secondo il monopattino è equiparato ai velocipedi alle biciclette ma andiamo un po più nel dettaglio allora vi ho detto che monopattini sono equiparate alle biciclette in tutto il territorio nazionale dove si può circolare con il monopattino si può circolare sulle strade urbane con un limite di velocità di 50 km orari e sulle piste ciclabili che sono parallele alle strade extraurbane altre caratteristiche tecniche molto importanti perché ovviamente la legge specifica che caratteristiche costruttive deve avere il monopattino 500 vat come potenza massima quanto possiamo andare utilizzando il monopattino al massimo 25 km orari nelle strade urbane con limite di 50 km orari nelle piste ciclabili nelle aree pedonali dove è consentito anche la circolazione con i velocipedi si può andare anche con il monopattino elettrico e la velocità massima di 6 km orari chi può utilizzare il monopattino coloro che hanno compiuto quattordicesimo anno di età casco sì casco no casco obbligatorio per i minorenni quindi tutti i minorenni devono utilizzare il casco ovviamente altre misure di sicurezza sono le luci obbligatorie davanti e dietro capitolo molto importante le multe le multe sono equiparate alle multe che vengono combinate da chi viola il codice della strada nell'utilizzo delle biciclette sono belle notizie perché guardi vi faccio vedere semplicemente questa piazza siamo in centro a roma una piazza piccola di roma ma altrettanto bella bellissima piazza occupata da che cosa da un sacco di decine di auto vetture magari tante di queste persone provengono da pochi chilometri dal posto di lavoro e non hanno altro mezzo che per arrivare sul luogo di lavoro che la vettura se avessero un monopattino e riuscissero quindi uscendo da casa se lo portano in casa pesa pochi chilogrammi se lo portano in strada partono e vanno sul luogo di lavoro con questo monopattino e non occupiamo tutti questi spazi i vantaggi sono enormi minore impatto ambientale l'aria è più pulita perché questo piccolo mezzo di micromobilità elettrica non inquina meno inquinamento acustico immaginate i rumori che fanno che fanno le autovetture e città più belle perché ci sono più spazi libere e in più vi dico anche e non è cosa di poco conto sono arrivato sul posto di lavoro guardate che cosa faccio una cosa semplicissima arrivo sul posto di lavoro lo chiudo lo chiudo me lo carico ed entro in ufficio perfetto hai visto il video ufficiale di toninelli faccio un applauso a tutto il gruppo perfetto nato ogni tanto in italia ragazzi una cosa positiva una cosa che può portare innovazione però cioè tu il monopattino non lo vedere come un giocattolo e ora ti spiego perché quel giocattolo che tanti possono dire quel giocattolo non lo voglio porterà lavoro risparmio di inquinamento risparmio economico città più pulite facciamo il punto della situazione come già detto dal ministro toninelli monopattini elettrici liberi ovunque ragazzi motore massimo 500 watt 500 watt su questo ti dico che il 500 watt ovviamente da natura di un motore serialmente 500 watt la sua velocità di crociera superiore ai 25 chilometri orari viene in soccorso a questo l'elettronica software la programmazione tramite con l'applicazione tramite display del monopattino dove tu devi andare a regolare la velocità massima a 25 chilometri orari perché solitamente un 500 watt può andare anche forse ben oltre 30 barra 35 non dico qualcosa in più ma dipende anche da monopattino in monopattino ci sono quelli un po più spinti ci sono quelli già bloccati diciamo dalla casa madre dal produttore e il 99,99 per cento dei monopattini che troverà in commercio sono tutti monopattini di produzione cinese tutti può essere che un brand ne acquisto l'otto fa mettere il suo logo fa una personalizzazione però ragazzi io sono nel settore conosco bene come va come funzionano e io i primi monopattini li ho conosciuti 5 anni fa ci lavoro perché perché customizzo batterie pacchi batterie e se non lo sai ti posso fornire un corso che ti porterà a crearti il tuo lavoro ora da qui a un anno massimo in italia ma non solo in tutto il mondo ci sarà un boom di vendite dei monopattini elettrici i produttori cioè i cinesi ne produrranno a migliaia mese dopo mese mese dopo mese questo permetterà di avere un prezzo di acquisto un po più basso permetterà agli importatori di importarne di più perciò stornare i costi di spedizione permetterà il prezzo di vendita a scendere cioè da qui a un anno io credo che un 20 per cento pure 25 se non anche 30 per cento in meno costeranno sicuramente ma anche perché passando il tempo la tecnologia migliora passando il tempo ci saranno innovazioni anche nel settore ti faccio un esempio la tipologia di ruota la tipologia di frenata la tipologia di anche batteria perché possono anche variare le batterie prima si utilizzavano le 18 650 ora in qualcuno visto che montano le 21 700 perché perché sono un po più grosse si è vero però hanno più capacità perciò le devi mettere meno perciò per il produttore questo porta diciamo un risparmio anche se non tanto però loro sulle quantità hanno altissimi grandissimi risparmi il mio discorso gira sempre al torno ad una cosa se da qui a un anno oltre quelli già circolanti già venduti ragazzi e tecnologia e elettronica tutto si rompe cioè non sono infiniti la cosa che si può rompere che si può bruciare che può difettare e che non può avere la stessa efficienza di quando era nuova cos'è la batteria perciò giriamo sempre diciamo attorno alla batteria perché il cuore di un monopattino ma in generale della micro mobilità elettrica ma anche di un auto vettura normale elettrica c'è sempre il pacco batterie si rompe quello non cammini più se si rompe il motore l'auto accende sempre ovviamente non cammina però accende la batteria invece muore quella muore tutto ora cosa serve ragazzi cioè dopo la conferma anche di toninelli che vogliono spingere al massimo questa tecnologia questa nuova questa innovazione la micro mobilità elettrica ora cosa nasce nasce la possibilità di nuovi posti di lavoro 1 importatori di questi prodotti 2 ragazzi un male in italy non c'è ma se ci fosse io lo comprerei è normale che aspetta attenzione io questo a questo ci ho pensato già parecchi anni fa volevo farli io dei monopattini elettrici come anche gli skate anzi la cosa era partita sugli skate poi valutando che pericoloso ero passato ai monopattini elettrici ho buttato giù qualcosa avevo iniziato a prendere contatti ma ragazzi potevo io fare l'assemblaggio di un monopattino cioè io dovevo comprare tutta la componentistica farmela arrivare assemblarli in base alla richiesta del cliente a conti fatti conveniva e non conveniva e poi parliamo sempre di un assemblato in italia perché attenzione il pacco batterie completo te lo fanno in cina la scocca te la fanno in cina e te la mandano le gomme te le fanno in cina e te le mandano perciò non è semplice se qualcuno si vuole avventurare lo può anche fare è sempre un made in italy parziale anche se le componenti ovviamente ma se invece andiamo a parlare di un'altra componentistica che è quella delle batterie e non parlo della sola costruzione da zero delle batterie ma parlo per di più per lo più della riparazione delle batterie cioè metti il caso in una città ci sono ventimila monopattini al mese se ne guastano 20 per vari motivi un punto di diciamo un punto di riparazione un centro di riparazione delle batterie ok ci vuole serve perciò tu che cosa aspetti se non hai un lavoro cavalca l'onda io ti posso fornire il materiale che ti serve per iniziare un corso completo dove gli svelo anche i miei fornitori da quel momento in poi tu potrai studiare studiare e dovrai studiare attenzione studiare tantissimo fare pratica tantissima per poi essere in grado di con le tue mani assemblare pacchi batterie per monopattino bici elettrica e scooter elettrici torce qualsiasi cosa qualsiasi cosa se vuoi informazioni sul corso clicca sotto ti lascio il link al pdf per prenotare il corso e mail ti voglio comunicare una cosa in questo momento il corso è in offerta già come prezzo standard è in offerta in più c'è un 20% di sconto per conferme e prenotazioni entro il 26 aprile sul prezzo che leggerai sul pdf al finire delle offerte perché in questo momento ci sono ben due offerte la prima è sul prezzo di listino e la seconda è il 20 per cento sul prezzo già scontato ok al finire di questo periodo il prezzo ritornerà alle origini perciò se hai interesse non perdere tempo un corso simile in italia non esiste io sono nel settore batterie elettronica generale da dal 2012 ma sulle batterie e da cinque anni cioè ho aggiustato centinaia e centinaia di tipologie di batterie portatile a bici elettrica monopattine elettrico scooter elettrico cioè ho avuto modo anche di lavorare su delle batterie quelli della ascol è un brand italiano che produce in italia ho avuto modo anche di lavorare su questi pacchi batterie molto grandi complessi eccetera eccetera perciò per farti capire che il lavoro c'è il lavoro è tanto e ora cioè è già stato tanto da cinque anni ad oggi quando la micromobilità non era avviata io ho lavorato sì su monopattini su skate su bici però non quanto si lavorerà da ora in poi perché prima c'erano 100 monopattini ora ce ne saranno 20 mila 30 mila 50 mila 100 mila perché se tutti valutiamo un buon prezzo di acquisto e poi facciamo i calcoli conviene non conviene ragazzi tutti andremo ad acquistare realmente i monopattini per questo video è tutto spero ti sia stato di aiuto interessante di informazione iscriviti al canale se non sei già iscritto più informazioni sotto ai link e mail contatta per tutte le altre richieste ciao e al prossimo